Il Papa ha ricevuto oggi in Vaticano il principe regnante del Liechtenstein Hans Haddam II con la principessa Marie e il principe ereditario Alois, capo di Stato in funzione con la principessa Sophie e tutto il seguito. Al centro dei colloqui, in forma a una nota della sala stampa, sono state rilevate le buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e il Liechtenstein ed è stato riconosciuto il ruolo storico della Chiesa Cattolica e il positivo contributo che essa continua ad offrire alla vita del Paese. Successivamente si è espresso apprezzamento per l'impegno del Principato in ambito internazionale, particolarmente nella tutela dei diritti umani.